Sarà attivo a partire da domani, giovedì 15 gennaio, il numero di telefono per ricevere segnalazioni o richieste in tema sanitario da parte di persone affette da Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare. L'iniziativa, ufficializzata dal Comune di Urbino, ha l'obiettivo di evitare che ci siano persone malate in difficoltà che non abbiano ancora ricevuto indicazioni sulla terapia da seguire o su una visita medica, pur vedendo peggiorare la propria situazione clinica. Il numero 338 40 56 602 rimarrà attivo a partire dal pomeriggio di domani, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. In una nota, l'amministrazione precisa che la presa in carico col paziente a domicilio rimane un compito del medico di medicina generale o del medico di continuità assistenziale che segue la terapia e assicura alle visite predisponendo, se necessario, l'attivazione delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Questo numero, invece, ha lo scopo di agevolare la comunicazione di eventuali problemi ai referenti del distretto sanitario, escludendo la possibilità di fornire terapie o effettuare visite in sostituzione dei medici preposti. Infatti, il Comune ha attivato una collaborazione con l'associazione Il Vascello, che offre servizi gratuiti di informazione sanitaria, per cui sarà il dottor Piero Benedetti, noto medico ora in pensione, a rispondere alle chiamate e farsi carico di dare le risposte e le indicazioni necessarie alle persone che lo richiederanno. Sappiamo bene, spiegano il sindaco Gambini e l'assessore Foschi, quanto sia importante intervenire in tempo per impedire l'aggravarsi della malattia e il ricorso agli ospedali, che stanno attraversando una situazione molto delicata e per questo abbiamo voluto dare un supporto ai cittadini e all'attività del distretto sanitario.